E' passato esattamente un anno da quel drammatico sbarco, una tragedia che assunse da subito contorni ben più gravi di quelli cui già in altre occasioni si era assistito, che commosse non solo la città ma un'intera nazione. Era il 5 novembre del 2017 quando la nave Cantabria fece scendere al porto di Salerno, oltre al consueto carico di migranti recuperati in mare, anche i corpi senza vita di 26 donne, tutte nigeriane annegate durante la drammatica traversata. L'autoposia rivelò anche segni di violenza subita dalle vittime, torture e altre atrocità. Due di loro erano anche incinte. Un anno dopo l'assessore alle politiche sociali Nino Savastano le ha voluto ricordare sottolineando come il comune di Salerno, ieri come oggi, si è impegnato sulla strada dell'accoglienza e dell'integrazione. Salerno è una città dell'accoglienza e continua ad essere la città dell'accoglienza. Chiaramente il nostro lavoro è stato fatto soprattutto sui minori stranieri non accompagnati nella nostra città. Molti di loro hanno avuto anche qui processi di formazione e di inserimento all'interno della città di Salerno attraverso attività didattiche, attraverso attività di laboratorio e anche formative. Continueremo in questo modo e la speranza insomma di poter continuare ad essere questo paese, ad essere un paese ospitale ed accogliente ma soprattutto solidale per le persone che vengono via dalle guerre e vengono fuori via dalle carestie, dalle cose che noi non viviamo.